Andiamo via! Ti va in vacanza? François Henriot, scagnozzo Giacobino, fa pulizia. I Girondini si oppongono alla violenza che Robespierre scatena a Parigi. I Girondini non credono che sia compito nostro emanare le condanne a morte. Robespierre non amava gli oppositori, ha dato ordine di arrestare tutti i Girondini. Amico mio, sei impazzito! Scateni quel macellaio sui deputati della Convenzione! George Danton, rischia grosso a sfidare Robespierre. I miei compagni della Convenzione ti denunceranno! E come lo faranno senza la testa? Forza, prendiamo tutti i traditori! Aiutate i Girondini! I Girondini devono prepararsi a fuggire. Avvertite tutti che Henriot sta arrivando. I 25 anni che si chiedono i giudizi. non si passa non passerai non sparisci sei il corriere più strano che abbia mai visto ora pori dai non muovete molto bene sopra le spalle da no 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 no